Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone ci sono due chilometri di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna, in uscita a San Mignato e in uscita a Santa Croce sull'Arno tutte provenendo da Firenze. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra in provincia di Massa Carrara per il crollo del ponte sul fiume Magra. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!